All'arrivo dell'ufficiale giudiziario e della polizia aveva già pronti gli scatoloni per il trasloco la signora Cristina De Maria. Grazie però all'intervento dei volontari del Comitato Civico per il diritto all'abitare ha ottenuto una proroga dello sfratto esecutivo al 13 ottobre. Magari fino a quel giorno l'amministrazione comunale potrebbe trovare una soluzione al dramma abitativo che stanno vivendo Cristina e sua figlia. Il rischio di finire in strada nonostante siano entrambe affette da una malattia neurodegenerativa molto invalidante la sindrome di Merv che impedisce a entrambe di lavorare e ciò nonostante le è stata riconosciuta invalidità solo al 60%. Mi sono rivolta all'arci confraternita, alla curia, suore, comune, ho fatto domanda a comune, niente. Andate ai servizi sociali, parlai, portate la documentazione, aiutatemi, cercate un alloggio, ho fatto domanda a comune. Mi disse le possiamo trovare un posto in un dormitorio, entrare alle 6 di sera e uscire alle 6 di mattina. Dopo aver perso i genitori che le davano una mano con la pensione, unico guadagno è diventato il reddito di cittadinanza, nessuna busta paga e la conseguente impossibilità a stipolare un contratto di fitto. E infine è arrivato l'ordine di lasciare l'appartamento da parte dei proprietari, nel sottoscala del Civico 9 di via Domenico de Gravina, quartiere napoletano di Mater Dei, in cui la donna vive da più di 20 anni. Da 97 l'ho mantenuta da sola con mia figlia che aveva 3 mesi, poi non l'ho potuta pagare perché ho perso il lavoro, non potendo lavorare, non ho garanzie per affittare casa. Ovviamente vogliono buste paghe da 1200 euro in su. Una vicenda complessa, quella di Cristina Di Maria, non l'unica a Napoli, considerato che la prefettura ha annunciato che sono 11.000 gli sfratti da eseguire. Da un lato c'è questo scenario, dall'altro c'è lo scenario post-covid che parla, fonte della prefettura, di circa 11.000 sfratti esecutivi. Il 500% della media annuale, Napoli era attestata sui 1800 l'anno. Questo è un dato che non può essere trattato come una questione di ordine pubblico. È una precisa responsabilità delle istituzioni locali e nazionali.